Salve, sono sempre io, Gabri Costa. In questa galleria di Tekken 7 voglio dirvi una cosa. Dopo aver visto tutti i filmati di Tekken 6, vi faccio vedere 101 immagini di Tekken 6. Possiamo iniziare? Come sempre c'è Kazuya Mishima. Avete visto? Già qui iniziamo col botto. Vediamo anche Leo, Miguel, Zafina, Bob. Questi sono sempre i soliti tre. Eiyashi, Kazuya, Jin. Poi abbiamo Alisa, Bosconovic, Lars Aleksanderson. Questa è Lily, in bikini. Poi vediamo Eiyashi, Jin con la sua moto, Kazuya. Leo, Klesen. Poi abbiamo Craig Marduk. Miguel. Questi tre sono Steve Fox, Martial Love e Paul Fenix. Insomma, tutti i personaggi principali, sia nuovi che vecchi. Anche Xiaio con Panda. Questo è il dottor Bosconovic. Poi abbiamo le sorelle Williams, Anna e Nina. Armor King. Asuka va a tutta velocità con la sua bici. Voarang sta affrontando il suo maestro Baek. Insomma, abbiamo anche Brian Fury. Cristi Monteiro, David Jin, Sergei Dragunov, Eddie Gordo. Ci sono tutti. Anche Feng Wei, Ganryu. Vorang, Jack Sei, Giulia Sheng, King e Marduk. Abbiamo anche Kuma. Li Shaolin. Lei Wulong. Bene sono tutte queste immagini che vi sto facendo vedere in questo video. Abbiamo anche Moku Jin. Raven. Roger Junior. Wang. Yoshimitsu. Zafina. Abbiamo finito. Vi ho fatto vedere 101 immagini di Tekken 6 in questa galleria di Tekken 7. Ora io vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Continuate sempre a seguirmi a ogni video che recensisco. Escrivetevi al canale. No. elo. Altra�ength.